Buonasera a tutti, questa sera ci stiamo incontrando per muovere dal municipio verso la piazza, in particolare poi ci fermeremo nell'arena del castello, tutti insieme. Un movimento che vuole essere innanzitutto un movimento di coscienza e di presa d'atto di una grave situazione che si sta creando ma di fatto era già nota da tempo e soprattutto dobbiamo prendere una presa d'atto ma anche una presa di coscienza, una presa di coscienza è maggiore sensibilità verso queste tematiche, dobbiamo uscire dall'indifferenza che ci ha caratterizzato in questi anni e che è stato il vero motore che ha consentito a qualcuno di fare i fatti propri. Adesso è il momento di dire basta e ci stiamo muovendo tutti insieme a prescindere da quelli che sono i colori politici di parte o di qualsiasi credo per un qualcosa davvero che riguarda noi oggi ma soprattutto i nostri figli per domani. Grazie.